A Cagliari, al Sardegna Hotel, il circolo sardo automoto d'epoca SCQ ha dato vita ad una serie di puntate dedicate ai protagonisti dell'automobilismo isolano del passato. Ospite di Nello Alfano, presidente del sodalizio cagliaritano SCQ, l'ex pilota Chico Tornatore. Per tutte le informazioni riguardanti le attività del circolo sardo automoto d'epoca SCQ potete visitare il sito internet ufficiale all'indirizzo www.automoto d'epoca SCQ.it Eccoci cari amici per una nuova puntata di Salotto SCQ, come vi avevo promesso in passato qualche puntata fa, è una puntata questa dedicata interamente a Chico Tornatore. non può non meritare una puntata interamente alla sua persona per quello che ha rappresentato e rappresentato nel panorama automobilistico sportivo della Sardegna e quindi per me e per noi tutti è un gran piacere poterlo avere e fare a lui e rivolgere a lui qualche domanda che poi non ha nessuna motivazione se non quella di capire e comprendere meglio qual è stato il mondo passato delle competizioni in Sardegna. E proprio per entrare in argomento, lo ringrazio ovviamente, gli chiedo ma è vero, proprio vero che c'era un altro clima, un'altra atmosfera in quegli anni o negli anni passati tra stessi piloti in competizione tra loro ma molto cameratismo al momento dell'aver necessità di aiuto? Sicuramente sì, sicuramente era uno spirito molto più direttantistico, diciamo che i problemi di ciascuno di noi erano i problemi del compagno, anche avversario, perché c'era sicuramente meno professionalità, c'era molta più improvvisazione. Vi faccio un esempio, quando cominciai io ormai nel 1966, non era obbligatorio l'abbigliamento in nifugo, se ci poteva presentare alle gare anche con una canadese, con un borghese, qualcuno addirittura veniva in cravatta, anche le macchine avevano un allestimento molto più blando, c'era un semplicissimo stacca batterie, un interruttore di corrente, un estintore, poi la cintura di sicurezza era di quelle a bandoliera e non era neanche obbligatorio indossarla alla partenza, era importante averla montata nell'automobile, quindi sicuramente era uno sport molto più direttantistico, più semplice, oggi è molto più professionalizzato e chiaramente anche chi si presenta per la prima volta alla partenza di una gara, oltre a dover investire una cifra abbastanza più importante, non indifferente, chiaramente dopo aver fatto tutte queste preparazioni, va alla ricerca di un risultato un pochino più prestigioso, più importante. Questa che tu ci dici è la vetrina, ciò che tu hai vissuto, poi questa evoluzione e quindi siamo proprio nella perfetta aderenza della realtà, ma è proprio al giorno d'oggi giovani piloti, poi, e tu me lo dicevi prima, hanno molta più tecnologia, hanno delle vetture diverse, anche tecnologicamente diverse e quindi devono essere anche preparati per questo tipo di tecnologia. Certo, ma guarda, c'è da dire questo qua, i tempi, quando ho iniziato, perché poi ho avuto anche il piacere, la fortuna di guidare macchine di ultima evoluzione, però quando si iniziavano noi parliamo degli anni 60-70, si respirava all'interno della vettura l'odore del carburante, tu sentivi l'odore dell'olio di ricino, il famoso olio di ricino, ricordato anche in un libro, diciamo, che ha dato il titolo Andrea Cocco, l'amico Andrea Cocco, l'olio di ricino, che è appunto questo suo caratteristico profumo, oggi no, oggi le macchine sono tutte quante dotate con un'elettronica raffinatissima, per cui tutto il combustibile viene bruciato al meglio, c'è molta più tecnologia, oggi devi essere anche un bravo tecnico, diciamo, a livello elettronico. Sono anche molto elevati. I costi sono molto elevati, comunque è suggeribile, diciamo, a un giovane che volesse, diciamo, avvicinarsi allo sport automobilistico, andare alla ricerca di un ottimo usato già allestito, una macchina che abbia già un allestimento di suo, con qualche anno di guerra sulle spalle, sicuramente si va a spendere meno che non imbarcarsi in un'impresa di un allestimento di una macchina che chiaramente va… Quindi, Chico, capacità individuali nel saper ovviamente condurre una vettura in gara, capacità di essere o sovvenzionati o comunque garantiti sotto aspetti… Capacità economica. Capacità economica, ecco. Ma soprattutto io credo la capacità personale, il coraggio, l'audacia che tutt'oggi comunque i piloti devono avere come in passato per potersi affermare. E sotto questo aspetto in Sardegna, tu in una passata puntata hai accennato a una mancanza di corse in salita, di una certa rilevanza. Perché questo problema? Perché le iniziative, diciamo organizzative, se guardiamo anche nel settore realistico, che in Sardegna è abbastanza ben coperto, sono tutte lasciate all'iniziativa e alla passione di scuderie private o di privati. Gli enti, gli automobile club che per loro istituzione dovrebbero essere preposti all'organizzazione e alla promozione di queste gare, purtroppo per delle loro difficoltà gestionali oggi hanno un po' le mani legate e quindi chiaramente fanno fatica a mettere in piedi una manifestazione sportiva. Hanno altre priorità. Scusa Chico, non è che ci sia una motivazione dove anche per esempio negli enti come l'Automobile Club non si dà il ruolo che merita a chi merita e in maniera che così tutto possa venire più liscio. Faccio un discorso molto banale, ma se c'è chi sa organizzare una certa manifestazione, non è una manifestazione, diamogli all'interno dell'Automobile Club il ruolo di poter svolgere questa organizzazione in maniera tranquilla, serena, senza essere molte volte impedito dalle velleità personali di un qualcuno che poi magari sono solo prosopopea e niente al lato pratico. Che ne pensi? Purtroppo anche negli Automobile Club vige purtroppo la presenza della politica, della politica politica, ma lo Stato pure è politica sportiva. Paradossalmente uno sportivo che ha tanta voglia di fare spesso va a cozzare con le sue iniziative, con quelle che sono le esigenze dell'ente parastratale, che è abbastanza macchinoso. È un argomento purtroppo difficile che noi ci auguriamo che la federazione voglia affrontare, perché adesso chiaramente ci sarà una rivoluzione nell'Automobile Club, che poi è la nostra federazione dell'automobilismo. Noi ci auguriamo che veramente venga ricomposto il tutto, perché allo stato attuale c'è molta confusione. Venga ritrovata o venga trovata una strada che consenta a tutti gli appassionati di automobilismo sportivo di riconoscersi uguali, senza campanilismi. Faccio riferimento alla nostra regione, dove siamo tutti sardi, isolani e non ci devono essere contrapposizioni tra l'Automobile Club di là e l'Automobile Club di qua. Questa forma di aggregazione, che io auspico moltissimo, molte volte non viene fatta o non si è fatta per una conflittualità tra persone o tra virgolette personaggi. Io mi auguro che questo possa risolversi per il bene, per il bene poi soprattutto dell'automobilismo, della passione, dove tu lo usi spesso, ci deve essere come eccellenza di considerazione questo termine, sportività. La sportività dei dirigenti, la sportività dei piloti, la sportività di tutti coloro che amano questo sport. Cosa ne dici? Guarda, io proprio un mesetto fa, per mia iniziativa, ho incontrato presso l'autodromo di Mores, l'amico Uccio Magliona e ho proposto un progetto, un progetto che prevedeva un campionato di sardo di velocità, che prevedeva appunto quattro gare di velocità in salita, sarebbe stata l'inglese a Sant'Angelo, si pensava di riproporre la Cuglia della Madonnina, si pensava di riproporre unitamente all'amico Giancosimo Ruio e a Ignazio Secchi la cronoscalata di Calagonone Galleria. In ultimo c'era la gara di Aghiero Scalapiccata, per poi concludere la stagione presso l'autodromo di Mores a fare una gara di velocità in pista, cosa che ancora non siamo riusciti a far decollare perché i nostri piloti sardi non sono ancora abituati alla gara con partenza in griglia, perché non abbiamo una tradizione di questo tipo. L'iniziativa diciamo è stata presa da noi sportivi appassionati, ci sono le figure, noi abbiamo un delegato regionale che rappresenta la federazione, è lui che deve prendere questa iniziativa, è lui che deve fare promozione nel territorio dello sport automobilistico e non talune volte contrastare determinate iniziative. Questo va detto con buona pace della persona da cui mi faccio riferimento, cioè non può essere il singolo, l'appassionato tutte le volte a proporre e certe volte essere cassato in queste sue iniziative. Deve essere chi è proposto a questo ruolo, incontrare gli appassionati, gli sportivi e far modo che gli sportivi possano partecipare, perché oggi per un giovane vicino allo sport automobilistico è diventato oneroso. Ogni anno la nostra federazione, io dico si inventa, io in federazione purtroppo non sono, mi si è permesso il termine, come un rompiscatole perché ho queste sparate per loro, ma io lo faccio per il bene dell'automobilismo, perché voglio bene questo sport. E lo dico anche proprio per favorire la partecipazione di molti giovani che vorrebbero cimentarsi in automobilismo e tante volte non possono perché ogni anno quando sono pronti con la macchina o con l'abbigliamento c'è un qualcosa di nuovo da tirare fuori. E chiaramente oggi con la situazione economica che stiamo vivendo viene sempre più difficile. E chiaramente rischiamo di avere la partenza, poche gare innanzitutto, e poi la partenza vediamo sempre un minor numero di partecipanti. Noi dobbiamo lavorare in questo senso, ma veramente, ma senza nessuna vena polemica. Bene, Chico, sono contento delle parole che hai detto perché sono dette da te e perché poi rispecchiano la realtà attuale. Ti ringrazio della tua partecipazione, ti ringrazio molto grazie a tutti. È un onore per il Salote SCQ Averti e mi auguro di ospitarti anche in una prossima puntata. Un saluto affettuoso e caro a tutti coloro che ci hanno seguito e un arrivaderci sempre ringraziando l'Hotel Sardegna alla prossima puntata. Grazie a tutti.